Cuccioli, abbiamo una lupo... Paw Patrol, a rapporto! Paw Patrol, a rapporto, tutti i cuccioli! Ognuno è specializzato in un vario luogo. La montagna, il mare, la giungla e la città. E anche il deserto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Abbiamo appena saputo che una frana ha distrutto un ponte e ha lasciato una famiglia di coniglietti bloccata. Dobbiamo sgomberare il sentiero e riparare il ponte per salvarli. Rubble è un cucciolo perfetto per rimuovere le rocce con il suo martello pneumatico. Rocky può riparare il ponte così i coniglietti possono saltellare fino a casa. Marshall può aiutare Rubble a passare oltre usando la sua scala. Sky userà il suo elicottero per aiutare Rocky a raggiungere il ponte. Bene Paw Patrol, dirigiamoci verso il canyon per salvare i coniglietti. Rocky. Rocky. Marshal Sky Rubble La famiglia di coniglietti è intrappolata nel canyon Rubble ha bisogno del tuo aiuto per usare il suo mantello pneumatico e sgomberare il sentiero in modo che Rocky possa riparare il ponte rotto Trova tutti i biscottini che puoi Scegli la bimbi Ottimo lavoro Sto rilevando un'impronta dorata da qualche parte nei palazzi Hai ottenuto l'impronta dorata Raccogli tutte le impronte dorate che trovi Raccogli tutti i biscottini che trovi per ottenere un biscottino di riconoscimento speciale quando torneremo al quartier generale Il cebuto rider Le avventure nei deserti sono le mie preferite Devo dire che Power Patrol è un cartone davvero molto bello e anche significativo per i nostri amici animali cani e gatti Ci aiutano sempre Alcuni cani sono stati addestrati per il soccorso della gente Per tirare la corda verso sinistra muovi la levetta sinistra Fai in fretta Devi attraversare il passaggio prima che si chiuda Scegli quale abit Ottimo lavoro Ci siamo quasi Si va Si va con la pala Aiuterà Polo a posizionare le rocce nel posto giusto Ce l'hai fatta Un pentoso C'è un pronta dorata qui vicino Hai ottenuto i biscottini Un' pronta dorata L'hai ottenuta Robatro La famiglia di coniglietti è intrappolata più avanti Prosegui e aiuta Rabbola a sgomberare il sentiero Il deserto È troppo alto perché Rubble riesca a saltare Abbiamo bisogno di Marshall e della sua scala Scegli Vieni qui Marshall Pompiere mio Ora possiamo proseguire Aiutami Saliamo Andiamo avanti amici Rubble come Biscottini che puoi Rubble come Un razzo Non devo dimenticare niente Direi che siamo a posto Ho preso tutti i biscotti Di Da questa Di questa parte Del percorso Ho scelto il martello Pneumatico Una cosa piccola Può fantomare una grande Perché la vera differenza Alcune volte Può stare anche nelle piccole cose La vera differenza A volte può stare anche nelle piccole cose C'è un'impronta dorata Nei dintorni Hai trovato un'impronta dorata Raccogli tutte le impronte dorate Che trovi 3 su 5 Racco l'ha sgomberato il sentiero Ora è il turno di Rocky Aiutalo a riparare il ponte E salvare i coniglietti Rocky Continuiamo a seguire il percorso Continua a raccogliere i biscottini Ogni volta che ne trovi uno Ho scelto quella della costruzione E adesso saliamo con la scala appena costruita Arrampicata portentosa Proseguiamo Raccogli tutti i biscottini di una missione Per ottenere uno speciale biscottino di riconoscimento L'impronta dorata è qua Hai ottenuto l'impronta dorata Prova a trovarle tutte 4 su 5 Trova e raccogli tutti i biscottini che puoi Ho scelto Ho scelto Ho scelto trova tutti i biscottini che puoi l'ho capito Rocky non può saltare così lontano chiedi aiuta Sky per spostare quel trucco bene, ora possiamo proseguire il ponte più avanti è rotto e la famiglia di coniglietti è intrappolata aiuta Rocky a riparare il ponte in modo che i coniglietti possono andare a casa per tirare la corda verso sinistra muovi la levetta sinistra fai in fretta devi attraversare il passaggio prima che si chiuda attivo lavoro ci siamo quasi l'abilità è quella della costruzione di una scala fantastico arrampicata portentosa proseguiamo un'impronta dorata l'hai ottenuta raccogli tutti i biscottini che trovi per ottenere un biscottino di riconoscimento speciale quando torneremo al quartier generale qui si chiuderemo al quartier generale quale abito adesso costruisci adesso costruisci perfetto arrampicata nel deserto arrampicata nel deserto arrampicata portentosa proseguiamo hai la quale abilità dei cuccioli potresti usare fantastico ho scelto quella di costruire un ponte aiuta Rocky a posizionare i pezzi nel punto giusto si va perfetto fatto ho patrò quei coniglietti sono così felici che abbiamo riparato il ponte e possono finalmente tornare a casa per aver raccolto così tanti biscottini ti sei meritato un biscottino di platino hai ottenuto tutte le impronte dorate hai sbloccato l'immagine di questa missione puoi vedere nuovamente le immagini selezionando la missione cuccioli abbiamo una nuova missione aiuta l'infortunato Jade usa la levi pompe troll arramporto oh patrò ho appena avuto notizie da Jake stava esplorando il canyon quando è caduto e si è fatto male Chase può usare il suo super olfatto per trovare dove è caduto Jake Marshall può usare i suoi raggi X per capire dove Jake si è fatto male e rimetterlo in sesto Rubble può occuparsi di sgomberare il sentiero usando la sua escavatrice Rocky può aiutare Marshall a raggiungere Jake sgomberando il sentiero con il suo camion del riciclaggio è al lavoro salviamo Jake salviamo Jake ragazzi un'altra avventura in mezzo al deserto Chase Chase Jake è caduto e si è fatto male nel canyon Chase può fiutare l'odore di Jake in modo che Marshall possa usare la sua attrezzatura medica per rimetterlo in sesta andiamo paupatral hai ottenuto i biscottini c'è un'impronta dorata qui vicino hai trovato un'impronta dorata raccogli tutte le impronte dorate che trovi per tirare la corda verso sinistra muovi la levetta sinistra fai in fretta devi attraversare il passaggio prima che si chiuda attimo la buona ci siamo quasi scegli l'abilità dei cu... è il momento di usare la rete si va perfetto continua a raccogliere i biscottini ogni volta che ne trovi uno lo so che ti devo contare anche se per me è super joe master un youtuber molto famoso e conosciuto la matematica non è il nostro port forte con i numeri e alcune volte io faccio davvero schifo senza offesa per i matematici raccogli tutti i biscottini di una missione per ottenere uno speciale biscottino di riconoscimento l'olfatto ecco fatto ricorda puoi premere il tasto croce per aiutare Chase a seguire la traccia per raggiungere l'uscita del labiritto hai ottenuto un'impronta dorata prova a trovarle tutte ricorda puoi premere il tasto croce per aiutare Chase a seguire la traccia e raggiungere l'uscita del labiritto ricorda puoi premere il tasto croce per aiutare Chase a seguire la traccia e raggiungere l'uscita del labiritto qui non c'è niente ce l'hai fatta Chase aiuta Chase a proseguire e infiutare l'odore di Jake Jake è caduto e si è fatto male da qualche parte lungo questo sentiero lo sappiamo Ryder ce l'hai spiegato pure al quartier generale c'è l'inabilità di potente ottimo lavoro trova tutti i biscottini che puoi queste racce ostruisco nel sentiero chiedi aiuto a Rapolo per spostarle certo bene ora possiamo proseguire proseguiamo amici c'è un'impronta dorata nei dintorni hai trovato un'impronta dorata raccogli tutte le impronte dorate che trovi scegli l'abilità dei cuccioli costruisci perfetto continua a raccogliere i biscottini ogni volta che ne trovi uno trova e raccogli tutti i biscottini che puoi il burrone è troppo lungo per poterlo saltare abbiamo bisogno di Rocky per usare quei rottami e costruire un ponte più lungo chiedo l'aiuto di Rocky vieni avanti amico aiutami adesso sputa il ponte bene ora possiamo proseguire aiutiamo Marshall a raggiungere Jake lungo questo sentiero e a usare la sua attrezzatura medica per dargli una mano raccogli tutti i biscottini sto rilevando un'impronta dorata da qualche parte nei palazzi ma che si è baggato ottimo sbattere la testa un'impronta dorata 4 su 4 su 5 c'è un'impronta dorata nel dintorno hai ottenuto i biscottini hai ottenuto l'impronta dorata per tirare la corda verso sinistra muovi la ledetta sinistra fai in fretta devi attraversare il passaggio prima che si chiuda attiva la moda ci siamo quasi hai raccolto tutti i biscottini di questa vis guarda c'è Jake ora aiutiamo Marshall a usare la sua attrezzatura medica per rimetterlo in sesto quale abilità di ci va eccoci qua da Jake quando trovi la frattura premi il tasto croce le ossa sono tutte a posto oh ecco la frattura fantastico pazza cuccioli lavoro contentoso abbiamo trovato Jake e l'abbiamo rimesso in sesto è di nuovo in piedi ed è già tornata a sorridere hai raccolto tutti i biscottini e meritato un biscottino di platino hai trovato tutte le impronte dorate hai sbloccato un'immagine puoi vedere nuovamente le immagini selezionando l'azione e poi premendo il tasto triangolo grazie 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 grazie